La mascherina all'aperto, io la mascherina non ho mai smesso di indossarla e credo che sia uno di quei dispositivi che più di tutto aiuta a evitare il, per quanto possibile, il purificare dei contagi e l'aumento dei contagi. Su quello che è successo in Lombardia ho delle cose da dire, ad esempio, e questo lo ribadiamo da tempo, visto che l'unica arma che c'è allo stato attuale delle cose per contrastare il Covid è il vaccino, perché non abbiamo cura, non abbiamo altre tipologie di mezzi per contrastare questa pandemia che di fatto c'è e che di fatto sta ricrescendo. Io mi chiedo, si sapeva da tempo che ci sarebbe stata la necessità di chiedere alle cittadine e ai cittadini di iscriversi per poi andare a fare la terza dose di vaccino? Perché in Lombardia sono stati chiusi la maggior parte degli ab vaccinali? Ci sono delle zone della Val d'Intelvi dove gli ab non ci sono più ed ora bisognerà recarsi negli ospedali creando fila, creando attese e probabilmente quando le persone cominceranno in massa ad iscriversi per richiedere la terza dose ci saranno dei tempi da aspettare e delle persone che gireranno scoperte. Questo è un problema. Poi se vogliamo parlare della variante ci entriamo nel merito poi e anche lì ci sono delle cose da dire. Lo vediamo proprio anche su...